Hola amico! Se sei un appassionato della batteria, in particolare della musica dei Queen, allora devi avere assolutamente questo libro. Almeno per due ottime ragioni. La prima è che l'autore, che è italiano e si chiama Dario Blues Di Nardo, ha raccolto in 300 pagine tutti i dettagli sulla strumentazione usata da Roger Taylor negli anni. Ma non solo negli anni dei Queen, proprio da quando ha iniziato a suonare con un'incredibile serie di foto e curiosità accreditate anche dal dramtech di Roger Taylor e dallo stesso Taylor in persona che compare nella prefazione del libro. La seconda ragione per cui vale la pena acquistare questo libro, che è anche molto più nobile, è che tutti i proventi vanno in favore della ricerca sulla SLA. L'autore spiega proprio nel libro di aver deciso di destinare tutto in favore della ricerca dopo aver subito una grave perdita in famiglia. Quindi, caro Dario... Per cui, se anche non sei un fan dei Queen o non sei interessato personalmente, regalalo a un amico, a un tuo collega batterista, fai girare il link, perché è un lavoro pazzesco che merita veramente di avere visibilità. Il libro è in lingua inglese, ma a dir la verità la maggior parte di quello che vedrai sono immagini, dettagli tecnici degli strumenti, delle misure, delle marche che Roger Taylor ha usato, quindi è veramente comprensibile anche per chi non mastica troppo la lingua. Io l'ho comprato circa 15 giorni fa e purtroppo mi sono dovuto accontentare della versione normale perché esisteva anche un'edizione limitata che è andata a ruba subito. Comunque, se volessi acquistarlo, nelle note a questo video ti lascio le indicazioni per contattare l'autore e tutti i dettagli. Se vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, sulla sua strumentazione è quindi The Drums of Roger Meadows Taylor di Dario Di Nardo. Ciao! It's a kind of magic